Siamo stati sfortunati, però devo dire bravi i miei ragazzi perché sotto il punto di vista per la prestazione non possiamo avere 20 minuti, abbiamo fatto un po' di fatica, un po' timidi, abbiamo subito un palco da parte della San Giustese per riuscire a sbagliare, poi ci siamo messi a posto e abbiamo avuto una prestazione che sono stati stati positivi, purtroppo non abbiamo organizzato due o tre palle con l'elite e non potevamo vincere la partita. Cosa ha chiesto il Presidente Pastoli tra 20 giorni si era per il mercato? Il Presidente ci ha detto che c'è stato una sorta di consulta con lo staff tecnico, dove potete intervenire? Questo discorso sia un discorso che faremo io, il Presidente e lo staff, stiamo valutando alcune situazioni, nel momento sono contento dei miei ragazzi e sono orgoglioso di allenare questa sala. Fioretti si è mosso molto, si è mosso anche bene, è mancata la stocchata strana e... Fioretti ha fatto una gran partita perché ha dato qualità e ha messo anche molto satisfitto, ho chiesto parla Fante e Fioretti questa volta di lavorare vicini e credo che lavorando vicini abbiamo creato diverse situazioni, avvisazioni di facciamze, infatti l'accusa di Raul Fante e Fante e Paolo di Paolo di Paolo Vini, quindi purtroppo ha mancato la finalizzazione, non capita che non c'erano nessun dramma, anche se quelle palle con me se fosse, palle con realizzate, però non lo sentirebbe tutto era importante, il posto è un problema, non però nulla la scuola. Noi non ci siamo spenti, secondo me ci ha spento un po' Giulianova, tutto l'ambiente si vedeva che avevano qualcosa in più dal punto di vista della spinta perché era tutto un ambiente che chiedeva questa vittoria, venire a Giulianova, voi siete di Giulianova magari non vi rendete conto ma è un bel gatino, è una situazione comunque complessa dove il pubblico, anche se numerosissimo, non numerosissimo come in passato, spinge molto e poi Giulianova secondo me ha individualità, ha collettivo, ben organizzata, per noi è stato molto difficile però siamo stati bravi a lottare, a metterci tutto quello che avevamo e nelle occasioni in cui potevamo ripulire il gioco e tentare di ripartire, lo abbiamo fatto anche bene, c'è mancata continuità di gioco che è una nostra abitudine ma quest'anno ne facciamo meno che in passato perché chiaramente abbiamo perso in personalità avendo ringiovanito molto la squadra ed è normale che questo succeda. Quindi l'obiettivo quest'anno è cercare di centrare i play-off o una semplice salvezza, e lo ridico di nuovo, noi abbiamo commesso degli errori in passato, noi siamo andati oltre il nostro limite e quindi tutti pensano che la San Giustese sia una società da temere per i primi posti, lo ribadisco anche oggi, noi siamo tutta un'altra squadra, abbiamo obiettivi totalmente diversi che dobbiamo percorrere con molta attenzione, con molta calma e lucidità altrimenti ci facciamo male. Grazie